E allora amici di Calciopazzo, giornata importante oggi di Serie B, le partite che mi interessavano maggiormente sono Benevento Juve Stabia chiaramente simpatizzando seguendo tutte e due le squadre ma anche Cosenza-Trapani che comunque era una gara tra squadre diciamo che lottano per non retrocedere e ero a cena fuori per cui ho guardato più o meno perché chiaramente non è che puoi ignorare le persone con cui stai a cena per mettere a guardare le partite perché è da cafoni giustamente. Benevento Juve Stabia, al Benevento bastava un pareggio per tornare in Serie A, c'è stata la vittoria con il bellissimo gol di Sao che ha scartato il portiere e l'ha messa sotto la traversa di sinistro, diciamo che per quanto riguarda i riflessi filmati, comunque la Juve Stabia secondo me ha onorato la gara, aveva anche opportunità a meno 3-4 in cui Montipò gli ha detto di no da gran portiere, secondo me la sconfitta non c'è stava. Un pareggio probabilmente sarebbe stato il risultato più logico, tra l'altro al Benevento bastava. Questa sconfitta complica un po' i piani della Juve Stabia che sta alla terza sconfitta consecutiva e sta praticamente vanificando, bruciando quanto di buono era stato fatto prima del Covid e ha soli due punti dalla zona play-out e per cui sicuramente le prossime gare saranno decisive, ma oggi meglio sicuramente rispetto alle precedenti uscite, però chiaramente i feedback che arrivano sono di una squadra forse un po' stanca. Per quanto riguarda invece l'altra gara, l'altra gara Cosenza-Trapani, indubbiamente il Trapani ritrovandosi poi in vantaggio di 2-0 sicuramente era un ottimo viatico perché comunque deve risalire la china e davanti c'è proprio il Cosenza per cui c'era una grossa opportunità. Tra l'altro il gol di Dalmonte stupendo, ha visto il portiere leggermente fuori e lo ha affreddato di sinistro. E poi c'è stato il 2-1 prima della fine del primo tempo di Baez e c'è stato un gol annullato a Rivier di testa per evidentissimo fuori gioco e poi il gol di Asensio nel finale che è passato sotto le cianche del portiere, come diciamo qui a Roma, al 95esimo se lo stava per cagare e poi credo che comunque non ci sia, anzi probabilmente il pareggio va anche stretto al Cosenza che ha creato tante tali occasioni che avrebbe anche meritato probabilmente di ribaltarla. Quindi questo è il mio umile, diciamo, resoconto dei due partiti che mi interessavano maggiormente. Purtroppo quando si è a cena fuori ragazzi è difficile seguire con attenzione il calcio perché poi c'è una confusione terribile per cui tra l'altro il segnale andava e veniva. Per cui niente, questo è il mio resoconto e adesso attendo chiaramente sotto voi i commenti. Complimenti al Benevento che torna in Serie A merita da me.